Si cominciano così i video ragazzi Ciao, ti porto dentro alla Crazy Run come non l'ha mai fatto nessuno proprio in stile mio, officina del pilota edizione 2021 appena terminata che si è tenuta tra l'Isola d'Elba e il Forte dei Marmi una vera bomba siamo noi di officina del pilota e Alan Simoni di Simoni Racing io mi sono scocciato e tu mi porti a fare sempre cose noiose io non ce la faccio più a sopportate è vero, devo smetterla dentro una fantastica M8 Competition che raga è diventata uno squadro ma non è l'unica, anzi ci sono delle supercar incredibili che vale la pena aprire questo video solo per vedere quanto ben di Dio motori incandescenti, un sound che non ti dico un posto pazzesco e gente completamente fuori di testa rimani incollato allo schermo perché oltre a dirti chi ha vinto ti faccio anche capire come si va a fuoco per aggiudicarsi la top 10 una gara senza senso e poi l'auto del genere non le vedi tutti i giorni però prima di iniziare la visione di questo video iscriviti al mio canale, è un click, è gratuito e a me fai un bel regalo buona visione è un po' tipo Saint-Tropez-Montecarlo siamo arrivati, siamo arrivati eh siamo arrivati boys dove andiamo? che dici Michele sei attivo? sempre attivo, sempre ma perché tu sbagliera qua mio? gli do una pacca che buona pilota e questa è una macchina di piloti c'è l'officina del pilota qua dietro e qui davanti invece ce ne sono due veri bella? bella qua c'è proprio la gente in vacanza siamo arrivati in questo posto fantastico ora vediamo domani la gara bellissimo per adesso vediamo dopo super super tutto a posto che bomba ragazzi siamo in insieme a voi e questa è la nostra è la più bella c'è un taxi? c'è un taxi? c'è un taxi? che spettacolo ti portiamo eh se vuoi complimenti ragazzi grazie dove la metto? più avanti faccio il giro carina, bellina la giochina bella anche il fisico sotto non è male e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo bella parrucca una bella biondona di cioluta ok non male come entro cosa si fa una volta arrivati check in, una docetta poi te ne vai a cena e l'indomani comincia la gara scendo, si parte chiaramente sono le 10.20 siete pronti? allora badge, busta e un regalino quest'anno un regalo il barattolo è sigillato non lo puoi aprire e quell'uovo lì dentro non si deve rompere ciao questo cazzo di uovo di merda tiene eh? finca se tiene il vostro primo compito sarà conservare lo stato totale di integrità dell'oggetto lo tengo qua in mezzo ai maroni e in questo momento tienes tres huevos porto azzurro prima tappa 17 chilometri 60 minuti non si può andare troppo forte altrimenti andiamo a rompere l'uovo quindi dobbiamo passare attraverso i checkpoint ragazzi start ok allora praticamente dobbiamo arrivare alla spiaggia di cavo io faccio burnout a partire pronti via uovo rotto finché te lo versiamo in testa che cazzo sei il piccolo MacGyver? lui c'è il navigatore quello vero di Guo che dice sinistra 3 più più meno meno abbiamo solo 28 minuti per arrivarci quanto ci abbiamo di timer? 20 minuti la strada è bella tortosetta però guarda che taglia anche dove si può primo checkpoint ci siamo 5 minuti recuperati grazie ai sorpassi abbiamo preso la scia di questo camion e ci ha servito davvero tanto numero 23 uovo ok timbro ce l'hai 23 ok fatti peggiare tieni grazie porta via tutto facile prima prova facilissima andiamo con la seconda dobbiamo trovare una bandiera elbana per la seconda prova c'è un cartilineo di mola ci sono dei distributori c'è un bazar può darsi lì è che bisogna trovarla da 150 cioè grande sì non devi trovare la piccola minimo 150 certo se noi troviamo una piccola intanto prendiamo quella lì però bisogna cercarla grande piuttosto arriviamo in ritardo c'è con penalità ma con la bandiera giusta che cazzo la troviamo la bandiera ma sempre dritto ma ci posso andare in macchina? fino alla billetteria macchina sì ok poi devi andare a soppie poi devi andare per centro team te chiedi Emanuele c'è le bandiere centro team non ce n'ho più una piccolina così no intanto da piccola lì forse due piccoline quattro però li dovete dire è quella originale la nautica quindi anche se non è una 50 no no serve un 50 cosa le devo? 7 euro 8 minuti più 5 di scarto quindi abbiamo 13 e quello all'inizio è importante essere tra i primi perché arrivi e hai le cose 150 euro 100 euro te la do no 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 va bene apposto l'hanno finite? e lei e lei dai dai 1 2 3 2 4 6 8 8 8 9 10 ci siamo eee almeno ce l'abbiamo sta bandiera mi tira il culo proprio sì sì infatti stavo per dire ma tu manca Alzheimer diciamo che anche questo è fatto si è arricchito sto taglie tappa 2 ok tappa 3 siamo pronti per passare la terza prova dobbiamo contare le pietre quindi io suggerisco carta e penna double check due da un lato due dall'altro perché pare siano due file di pietre andiamo va 154 156 157 158 159 166 166 166 166 166 166 166 166 abbiamo le pietre al centro del vialetto e le pietre alla destra e alla sinistra del vialetto quindi ci chiediamo quale fosse quella giusta il vialetto è questo cioè questo non fa più parte del vialetto ci risulta sì 459 sì 453 bravo allenamento do allenamento superato? sì siamo in pausa pranzo ragazzi abbiamo parcheggiato la macchina lì e adesso seguo il flusso che carino qua però mica male l'isola d'elva eh jones dov'è il resto del gruppo? vai vai c'è il nostro lì eccoli quei bastardi avete iniziato senza di me qui si mangia e loro hanno iniziato senza di me mancano due minuti più i 5 di scarto quindi io sono i 45 e i 48 beggio hai beggiato? sì praticamente dobbiamo presentare una soluzione basica di pH 9 con l'acqua della fonte Napoleone quindi dobbiamo aggiungere il bicarbonato all'acqua per renderlo più basico stiamo andando a prendere il bicarbonato e l'acqua prossimo step farmacia 800 metri si è aperta chiusa che dici? farmacia Comparini Comparini è la fascia ancora a successo di uniressimo numero unissimo cazzo è chiusa pure questa mai fidarsi di Google mai fidarsi di Google alternativa negozio di piscine siamo arrivati l'acqua gasata mi va bene te lo dico io devi metterti l'acqua naturale 100 grammi ogni metro cubo d'acqua alza di 0,2 sono mille litri mille sta a 100 come noi abbiamo 0,1 0,5 litri bravo sta a x bravo 100 per 0,5 bravo bravo fratello sono pienamente d'accordo 8,75 grammi ci sta è un pH ci sei portato la faccia è certo sei un grande fa la scende forco bro dai fa la scende ecco vai vai ancora che fa a te guardiamo tutti queste cose dai che ti vedono tutti qua mamma mia una gabbia di mare ci riproviamo vai vediamo quanto esce dai hai fatto vedere dai mia fortuna misuriamo una terza volta cabri e vediamo com'è poi facciamo occhio grazie mille grazie ragazzi guardatevi di nuovo ho digerito bene il pranzo devo dire questo è l'altro check point sto aspettando Alan dove cazzo è finito non lo so ottimo manca una tappa sola nel day one io ragazzi non ce la facevo più avevo la nausea immaginatevi fare le riprese dentro all'em8 a quella velocità là che ti scombussolava a destra e a sinistra ero esaurito ma ci siamo divertiti troppo andiamo avanti dobbiamo salire in funivia ciao se mi sentite di trascorrere 18 più 18 minuti il vostro tempo sono spesi in aria sebbene travel time si è impostato 80 minuti non saranno conteggiate time penalties in difetto però dobbiamo salire saliamo take a ride diccio forza ti ho un'idea io faccio di capri Matteo sì ma tutti i figli di me sì ola hermana allora a bestia bellissima un'altra mezz'ora discesa ragazzi questo è assolutamente il più bel check point mai visto in vita mia ma c'è il cappello come il mio pure tu con te io non ci torno più non mi piace dai la zona 1 è quasi finita resisti tieni duro ce la fai tieni duro che prova quasi finita quasi finita ho un'altra sull'opera olle bella 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 epic scene epic scene bella portacci vostra avitvi hai seguito lo storytelling sui nostri canali social? no? ai 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 ero stato sufficientemente chiaro riguardo voltate il foglio per completare l'indizio con le informazioni richieste e recatevi all'enfola gli indizi sono chiari in vista del Cere9 ormai dovreste aver capito ma che cazzo ho capito no vabbè vabbè un romanaccio senza z che diceva che cazzo vabbè non ce l'ho fatta più io ormai ero totalmente dissociato dal gruppo ragazzi stanco proprio stanco con la nausea quindi ho lasciato fare a loro questa come avrete immaginato è l'ultima prova del day one io ci ho impostato dove state andando voi perché c'è da consegnare l'ultimo foglio Enfola Enfoli Napoli Enfola grazie prego ciao ciao a dopo ciao io caro le fette quindi oltre ad essere un video diseducativo è anche un video coliardico ma noi stavamo lì poco fa che cazzo di giro ci hanno fatto fare panoramico però non facciamo benzina io dico che rimaniamo per strada l'amazoni dopo ci andrà a prendere qualche tanica sei partito moggio moggio ieri però ti stai a scaffar per bene bravo ragazzi io sono solo un driver un atleta basta ecco grazie che ti serve? 23? 23 sì grazie vai ci congediamo con una bella canzone di Battisti l'uovo ancora intatto alla guida si è rimesso il dottor Simoni siamo stanchi ma felici Caterina e poi al tavolo abbiamo l'amazoni più in grassa meglio è c'è chi ha? mamma io non sono oggi buongiorno giorno 2 ore 7 e 28 si parte per Forte dei Marbi buongiorno amici buonostia buonostia che cazzo ma che succede? caffè io sto al cavolo arriviamo sta a dormire che amico ma ora ti devo prendere il caffè volevamo dormire prima prova del secondo giorno prima prova del secondo giorno dobbiamo generare un codice a barri usando 28 foto che troviamo sul profilo Instagram della Crazy Run scannerizzandolo si ottiene un codice che sarà il nostro lascia passare loro riflettono 6 27 e tu mi dici ce l'ho ce l'ho ce l'ho foto nera si è la piega tutto il team al lavoro si io sto sovrapponendo tutte le foto della pagina di Crazy Run che hanno le lineette del barcode isolo la linea inverto e quindi creo il balcone questo codice corrisponde ad un numero di telefono al quale dovremo inviare un messaggio inviando il messaggio non prenderemo penalità ma solo in pochi lo sanno arrivati a Piombino si parte per la seconda challenge siamo arrivati ragazzi ciao ragazzi ci vediamo alla fine al ristorante La Solera grazie 45 minuti vai timer raga bisogna trovare una lampadina a 400 watt incandescenza perché vanno dal brigo secondo me dove cavolo la troviamo adesso allora occhio qua ci sono i velox no no vai tranquillo non ce ne sono loro ci mettono su delle strade e non ce ne sono manca noia vabbè bravo eccolo lì ecco non ci sono leox vaffanze anche voi in cerca eh? si anche noi trovate? nein entro la Lidl vediamo se troviamo sta cavolo di lampada incandescenza nada fresco fresco che ragazzi in gergo Crazy Run vuol dire scagli del gas che cazzo è? è lo scandio e che c'entra? questo qua è l'ogeno ragazzi abbiamo comprato questa che probabilmente non serve a nulla Gabriel ha comprato una stufa vediamo un po' e adesso smontiamo e adesso smontiamo e adesso smontiamo pare che vada dai 400 ai 1200 euro vai andata va bene va bene così questa alla fine ha funzionato l'abbiamo smontata e andrà bene in questa fase della gara va votato un vino quello che riceve più voti prenderà meno penalità sto chiamando per sapere se per caso avete un bruciato niente finiti tutti va bene tutti le volte hanno comprato non si capisce più niente secondo me ci vogliono depistare ragazzi non so se avete capito ma si parla di vini adesso prossimo checkpoint una boccia già ce l'abbiamo non è che le volte però meno teca da fuori va a posto salve abbiamo chiamato prima prima le tignavano le volte no quante è bruciato ma te quante bottiglie ti hai bruciato? due arrivederci terza challenge del giorno due ragazzi è andata abbiamo beggiato adesso si mangia e siamo pronti a ripartire passano le ore raga ma io sto sempre con sto uomo con mano così eh e l'uevo bibona direzione bibona la quarta challenge consiste nel prendere tre scontrini in tre località diverse l'importante è che il nome della località sia scritto sullo scontrino let's go ammortizza ammortizza poi inclina c'è un dettaglio che sta andando a fuoco sembro Danny Lazzarillo comunque queste strade fanno cagare io pensavo che Roma erano brutte ma qua comunque siamo lì eh siamo arrivati al checkpoint dobbiamo aspettare perché siamo pure in anticipo siamo troppo forti come cazzo guida Alan? mamma mia adesso ho sbagliato lo zoom porca c'è la bibbona monte scudaio e c'è un altro adesso via 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 ovo integro scontrini ora stai buona guarda si libera tutto grazie ne so cazzi adesso ci stiamo cercando una persona che abbia le iniziali del nome e cognome con R e C e che sia nato il più possibile vicino al giorno 9 altrimenti ci attacchiamo al cazzo ciao Roby dimmi che sei nato il 9 no cazzo 9 non ti posso aiutare mi mandi il tuo green pass il QR code ragazzi io c'è un numero di Roberto Ciceri il capo di beta ma non me la sento no no io 27 27 l'importante è che ci siamo levati sto uovo dalle scatole Alfredo si chiama Cantuoni e ha sei figli Dio canta adesso ci sarà uno con la cazzo terra pronto io provo a chiamare uno che non sento da 10 anni 28 niente grazie ciao lui diceva che c'era il piedino leggero in discesa c'era il piedino leggero questo cazzo siamo arrivati è finita bene abbiamo trovato CR10 che c'ha 30 punti di penalità però comunque va bene ci avviciniamo molto Como, Roma, Piaci bella 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 miseria che non siamo riusciti a trovare il 9 settembre bella bella uè barbetta allora si è un M8 si è rotta la sbarra non ci credo comunque la cosa più epica della Crazy Run è stata questa sono due giorni che abbiamo questa cazzo di busta in mezzo ai coglioni e l'unica volta che serviva e abbiamo usato la bilancia c'è che ma no figa ma hai lavato ma hai lavato pellegrino è pieno di fighe qui ecco gli più belli del mondo bella 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 come? esimi quanto siamo arrivati? no speriamo speriamo dentro i denti di dodicesima posizione una vecchia conoscenza simoni racing con 248 punti di penalità con 123 punti di penalità il vincitore della Crazy Run 9 edizione 2021 The Highland il team scemo e più scemo! ripetiti ragazzi la Crazy Run mai ci fu un nome più azzeccato la rifarei altro che sale rifarei ci siamo divertiti tantissimo ringrazio BMW Italia e rivoltella group per averci dato questa splendida BMW M8 competition perfetta in ogni condizione e che ti mette a tuo agio oltre ad andare forte che dire invece di di il factory dopo aver seminato il terrore nelle strade elbane e anche a forte dei marmi tornerà negli abissi si focifra ancora di alcuni avvistamenti della pin fra i bagnanti io sono Matteo Torrisi di officina del pilota e personalmente vorrei ringraziare Alan Alan di simoni racing bello mio che ci hai ospitato e pagato tutto tu sei troppo bello bravo se fa così poi saluto Michele e Bartian che non lo conoscevo ma siamo diventati proprio amici subito perché lui ha questo dna simile al mio molto rock and roll molto e si di si del resto siamo coetane inutile dirvi che quell'annata lì è molto cool e ringrazio ovviamente l'ottimo Dumi che proprio grazie a lui che siamo riusciti ad arrivare a dodicesimi perché se non c'era lui ragazzi ma neanche i cinquantesimi Crazy Run bellissima un evento spettacolare da rifare assolutamente ringrazio tutta l'organizzazione e noi come al solito ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio iscriviti al canale mi raccomando grazie a tutti